Niente incontro arrezzato per il boxera retino Orlando Fior di Giglio, tutta colpa di un virus influenzale che lo ha costretto a letto con 39 di febbre. A ripercorrere mentalmente tutte le tappe di avvicinamento a quello che sarebbe stato il primo match di Fior di Giglio dopo la conquista del titolo dell'Unione Europea, verrebbe quasi da pensare ad un'infinita serie di sfortunati eventi. Roba da non credere, a tal punto che a qualcuno verrebbe magari pure voglia di scherzarci su. All'inizio come serie del match era stata designata a Rezzo, al limite Castiglion-Fiorentino. Orlando Fior di Giglio avrebbe continuato a combattere e soprattutto a difendere il titolo in casa davanti ad un nutrito gruppo di amici e tifosi contro il Livornese Lenny Bottai. A metà ottobre arriva la voce, poi confermata dello spostamento arrezzato a causa delle difficoltà incontrate nel trovare sponsor in terra retina. A fine ottobre cambia anche l'avversario. Lenny Bottai non trova l'accordo con gli organizzatori che devono così mettersi alla ricerca di uno sfidante. E intanto l'incontro, in programma ad inizio novembre, slitta a metà e poi negli ultimi giorni del mese, fino ad essere rinviato al 13 dicembre. Fior di Giglio sul ring, ma non per difendere il titolo. Il pugilaretino, che aveva persino meditato di rinviare subito il match, alla fine avrebbe incontrato il serbo Bogdan Mitic, senza però mettere in palio il titolo dell'Unione Europea. Oggi pomeriggio è arrivata infine la notizia della cancellazione del match a causa del virus influenzale che ha colpito Fior di Giglio. Purtroppo questo incontro era nato male, è il primo commento che viene in mente al pugilaretino, pensando a tutte le difficoltà incontrate per tornare sul ring. Appuntamento quindi al 2014 e chissà, magari Orlando combatterà nuovamente ad Arezzo.